Mister Chiappino di fronte alle nostre telecamere, siamo a commentare un 1-1 con l'Inter, andata dei quarti di finale della volata Scudetto, Ander 17, successo tutto nel finale, come la descriverebbe questa partita? Una partita che noi abbiamo interpretato bene al primo minuto, perché nei primi 20-25 minuti di partita abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol, abbiamo calciato 7-8 volte in porta, 3 parate importanti del loro portiere, perciò la partita era iniziata bene e stava continuando per come l'avevamo cercata di preparare noi, anche perché non abbiamo guardato tanto all'Inter, ma abbiamo guardato più che altro a fare le cose che pensiamo di poter fare noi. No, questo non è non dare importanza all'avversario, perché è un avversario fortissimo, l'avversario forse insieme alla Roma, non forse, tolgo il forse, insieme alla Roma è la squadra più accreditata a poter vincere il titolo, però è giusto che i ragazzi, visto che sono arrivati fino a questo punto, con grandi sacrifici, devono andare in campo e giocare la partita con serenità, con determinazione, pensando che le partite iniziano tutte 0-0, non perché giochiamo contro l'Inter, la Juventus, la Roma e l'Atalanta si debba partire per forza battuti, perché non c'è scritto da nessuna parte. Bisogna stare in partita anche fino all'ultimo, penso che questo io l'abbia ricordato giustamente, perché comunque non c'è nulla di perduto, c'è un ritorno, è vero che avete un risultato solo, perché dovete vincere, il pareggio non vi basta, però la squadra che è scesa in campo oggi ha dimostrato che per la vittoria può giocare anche con una squadra quotata come lì. Sì, le partite hanno tutte una storia a sé, non sono tutte uguali, perciò probabilmente troveremo molte più difficoltà noi a Milano, perché loro sono una squadra che palleggia, una squadra che ha fisico, una squadra che ha giocatori importanti, che possano risolvere la partita anche individualmente, e andremo a giocare su un campo diverso da questo, probabilmente in erba naturale dove non siamo abituati, perciò ci sono tante cose che cambiano. Io mi sono arrabbiato, fosse finita 0-0 la partita, io avrei fatto i complimenti ai ragazzi e avrei solo chiesto magari nella prossima gara, negli ultimi 16-18 metri, un po' più di determinazione quando si va a calciare in porta, perché abbiamo creato davvero tanto. L'1-1 fatto così non mi sta bene, non mi sta bene perché tu vinci la partita con un gol bello, fatto al novantesimo, meritato, al terzo di recupero non puoi prendere un gol per una disattenzione, perché non possiamo permettere a un giocatore dell'Inter su una palla da ferma di aprire il gioco su un giocatore loro completamente libero e mettere la palla dentro. Questo è un errore che non ci sta. Poi, avessero messo la palla dentro direttamente, forse è venuto fuori lo stesso il gol, pazienza, sono cose che capitano, ma quando si deve stare attenti bisogna esserlo. Lì sono determinanti loro, quello che si comunicano loro in campo, perché se andiamo ad analizzare uno di loro a calciare la palla e ne hanno uno fermo in porta, hanno ancora 9 giocatori in movimento e tu ne hai 10, perciò ne hai uno in più e non può essere su un giocatore libero al terzo di recupero vicino alla bandina del calcio d'angolo da solo, che possa controllare la palla e mettere una palla dentro l'aria. Questa è la cosa che mi ha dato più fastidio, non tanto il pareggio che ci sta, perché gioca dentro la squadra forte.